Cari telespettatori, ve l'avevo detto, eccoci qua nel nostro consueto angolo con Stefano Zara, l'angolo della finanza, dell'economia, del punto della situazione attuale. Ben ritornato qui con noi. Buongiorno a te. Allora, abbiamo lasciato i nostri ospiti con cui abbiamo affrontato, come sempre, questioni di attualità economico-politica, questioni molto stringenti, che però vanno a condizionare l'aspetto delle nostre tasche, delle tasche degli investitori, delle imprese, eccetera. È così o non è così? Rispondiamo un po' a tante questioni che i nostri telespettatori ci hanno fatto. Io quindi vi dico, se voi ci scrivete, noi poi giriamo le domande ai nostri esperti e cerchiamo di dare risposta. Prima di tutto, spread è tornato in azione, è tornato in moda, però effettivamente c'è una connessione. C'è qualcosa che non quadra, giustamente non solo a chi ci segue, ma un po' ragionando così. Possibile che si parla di spread e questo salta soltanto quando le cose non vanno come vuole l'Europa. Ma allora, esiste la sovranità di uno Stato che può comportarsi in un certo modo per i propri cittadini o tutto deve essere condizionato a questa cosa impazzita che ha fatto cadere a suo tempo comunque un governo, far venire un governo tecnico, eccetera, e che condiziona tutto? È una specie di arma di ricatto. Ma da dove nasce? Quindi rispieghiamo lo spread adesso che torna di moda. Sì, di spread ci si può ammalare. Lo spread, l'avevo detto diverse volte, non è né di destra né di sinistra, è una percezione. Quando diciamo percezione, diciamo una cosa che è immediata. Non è quello che fa il governo oggi a un effetto pratico, immediato sull'economia. No, è un'annunciazione di rotta. È come se un capitano di una nave, in Miadis, dice, andiamo da una parte piuttosto che dall'altra. Nel momento stesso in cui lo dichiara, la nave ha bisogno poi di tempo per spostarsi, cambiare rotta, ma nel momento in cui lo dichiara, gli effetti arrivano. Questa enunciazione di operatività nel nostro paese, che è un paese sotto la lente degli investitori, sotto la lente dell'Unione Europea. Ma solo perché ha debito pubblico? Siamo anche solo per quello? Essenzialmente sì. Il Giappone che ha un debito quattro volte il nostro, non mi risulta, lo spread del Giappone è più basso di quello della Germania. È un problema di debito e anche se è vero che il nostro debito ha il 60% in mani domestiche, cioè ce l'abbiamo noi, è tanto vero che questo spread, quando si alza, ha un effetto immediato e dirompente sulle nostre tasche. Perché se lo spread aumenta, si alzano i tassi, quindi aumenta immediatamente la nostra spesa per interessi. Se lo spread sale, i prezzi di BTP scendono. Altro effetto non collaterale, ma fondamentale, è che i BTP, che sono in pancia un po' a tutti, abbiamo un debito grande che per il 60% è vero che è domestico, ma è domestico che vuol dire? Vuol dire che è nelle pancia delle banche più grandi del nostro paese. Se i BTP che sono in pancia delle nostre banche perde di valore, diminuisce il patrimonio di garanzia, vuol dire che le nostre banche in prospettiva devono mettere nei loro bilanci il fatto di poter erogare meno credito alle famiglie, meno credito alle imprese. Questo immediatamente vuol dire, significa alimentare in maniera non virtuosa la crescita di un paese. Noi che stentiamo già a crescere, ecco perché quando vengono riviste le previsioni di crescita del nostro paese, difficilmente vengono riviste a rialzo, vengono riviste a ribasso. Se si presume che ci sia incertezza sulla crescita, per non saperne leggere e scrivere, le previsioni sono riviste sempre a ribasso. Ecco, ma allora questo benedetto spread, che è una percezione, come percezione, allora ci criticano le percezioni di sicurezza e insicurezza, no, il cittadino percepisce l'insicurezza, ma l'Italia è un paese sicurissimo, il cittadino percepisce che ci sono troppi stranieri, ma in realtà non è assolutamente così. Allora quella percezione non va bene, questa percezione che viene fatta allora dai grandi colossi della finanza, dell'assunto dell'economia, questa invece può farti crollare un governo? È mai possibile, perché? Prima perché essendo in un consorzio, quindi l'Unione Europea è a fatica, insomma, si sta incamminando verso un'unione che non sia solo monetaria, ma anche politica, anche fiscale, presuppone che in tutti i paesi si parli nella stessa lingua, almeno a livello di solidità di bilancio e quant'altro. E quindi si sono fissate delle regole e dei paletti condivisi. Nel momento in cui queste regole e questi paletti condivisi, in questo caso fissati dal precedente governo, vengono disattesi perché, a torto ragione, ma noi non stiamo facendo dei giudizi di merito, ma si è deciso di cambiare rotta, si è deciso di impostare una finanziaria che sia una finanziaria di crescita che ha dei, tra virgoletti, evidenziati, dei connotati molto diversi dal passato, reddito di cittadinanza e quant'altro. Questo crea delle perplessità. L'aumento di spreadi di questi giorni, per certi versi, non è un aumento drammatico, è un aumento di chi sta guardando con attenzione a quello che sta accadendo nel nostro paese. È tanto vero che siamo alle vigili di un appuntamento elettorale fondamentale, quello di aprile, se voterà in Europa. Infatti volevo proprio arrivare a questo, bravissimo. E questo è fondamentale perché capita, è una serie di, mischiamo un po' politica e finanza, ma sono estremamente interconnesse. Da una parte c'è una leadership tedesca molto debole, la Merkel è alla fine del suo ciclo, lungo ciclo, una leadership francese che comunque sta già pagando una sorta di indebolimento interno. Cioè Macron è Trump, per quanto in viso possa essere Trump? Oggi lui ha più consenso che il primo Obama. Il primo Obama, ecco, la stessa autorità di servizio, aveva meno consenso rispetto al Trump di oggi. Nonostante tutto quello che si è fatto, ugualmente mantiene una posizione. Attenzione, l'economia americana sta correndo a una velocità siderale, tre e mezzo di disoccupazione, le aziende si portano via le professionalità più rilevanti, più evidenti, più di talento, i talenti. Bravissimo, ma qual è stato il segreto, adesso ormai è un po' di tempo che vanno bene, del loro successo e quindi hanno, diciamo che hanno tirato i remi in barca, hanno chiuso un po' all'esterno, si sono protetti e creando dei sistemi protezionesi ci sono riusciti. È così oppure no? È una formula vincente oppure no? Nel senso che la loro formula è vincente. Per loro, cioè. Laddove un paese storicamente ha sempre avuto una struttura accademica della ricerca, che è la prima del mondo, un legame fortissimo fra le aziende e l'innovazione, perché quando le aziende si sanno rinnovare in maniera così importante, così rilevante, le prime dieci aziende di quel paese non esistevano dieci anni fa. ecco, stiamo parlando di altro, è un altro pianeta rispetto al nostro, è un altro pianeta rispetto al nostro. Quindi non è mutuabile, non è assolutamente neanche... No, andrebbe fatta anche da noi un'azione di questo tipo, nel senso, mai rischiamo l'impopolarità. No, rischiamo lo spread, perché... Rischiamo lo spread, ma credo che... Se oltre al reddito di cittadinanza ci fosse stata una fetta importante delle risorse dedicate allo sviluppo e alla ricerca, lo spread sarebbe sceso. Non è importante, cioè è importante quanto spendi, è importante come lo spendi. È vero, però c'è anche una cosa che non va nessuno giù, che è indubbia, la Francia ha un debito pubblico che è uguale al nostro, perché nel range dei parametri non conta euro più euro meno, e lo sappiamo, e in più i francesi hanno meno risparmi in pancetta delle banche rispetto all'italiano, che è un po' come il giapponese, grande risparmiatore. E quindi noi dovremmo essere messi meglio della Francia in qualsiasi tipo di situazione, e lo spread non dovrebbe penalizzarci così tanto. Perfetto, ma quando valutano lo spread... Lo spread è un indicatore sintetico, come tutti gli indicatori sintetici, raggruppa tutta una serie di dati, che non è solo... Che è il PIL, ovviamente, quello francese più alto del nostro, che la disoccupazione è quella francese più bassa della nostra, ma tanti altri parametri, non solo legati al lavoro. Ad esempio, noi siamo all'ultimo posto nell'area UE per il numero di laureati. Siamo al primo posto dell'area E. E conta? Sì. Però se da noi sono chieste le figure tecniche, per la nostra manifattura e il laureato... Sì, rispondo che siamo al primo posto per dispersione scolastica nelle medie superiori. Cioè, su 100 ragazzi che iniziano le superiori, 70 non arrivano al quinto anno. Quindi noi siamo all'ultimo posto per... Così tanti. Sì, così tanti. È un dato del mistero, quindi non è taroccabile. Sì, è un dato sorprendente. Sorprendenti in negativo, che rimaniamo ultimi oxe per il numero di laureati, sorprendenti in negativo, che siamo al primo posto per dispersione scolastica nelle medie superiori. Quindi su 100 ragazzi che iniziano 70 arrivano alla quinta, e quindi non parliamo di quelli che poi magari in quinta... Cosa vanno a fare e cosa vanno a fare? Cosa vanno a fare? Non lo sappiamo. Quindi abbiamo anche mano d'opera schersamente qualificata, che si è pur dichiarata importantissima la matrice tecnica delle qualificazioni, quindi non sto là a dire. Però siamo un paese che ha investito poco nella scolarizzazione, chiamiamola così, e investe pochissimo storicamente, perché uno dei capitoli di spesa completamente decimati è quello sulla ricerca. E quindi esportiamo nonostante tutto delle genialità fuori confine, perché nonostante tutto produciamo... Abbiamo un sistema accademico comunque all'altezza, ma su questo nessuna amministrazione, a meno dell'ultima amministrazione, ha investito in maniera decisa, perché c'è da tagliare, c'è da proteggere l'elettorato, c'è da proteggere... E cosa per favorire il sistema finanza, quindi non gravarlo ulteriormente, che cosa bisognerebbe fare secondo il suo punto di vista? Noi siamo un sistema politico più fragile degli altri, perché la globalizzazione ci ha spinto a rivedere il nostro modello produttivo, non abbiamo più potuto puntare sulla svalutazione competitiva, quindi le nostre aziende per poter vendere di più hanno dovuto produrre alta qualità e contenere in tutte le maniere i costi di produzione. L'hanno fatto per un certo periodo del localizzando, adesso molta della produzione è rientrata, il fatto stesso è che le retribuzioni nostre siano fermi da almeno il 98, questo è stato il prezzo per l'ingresso nell'euro, ha fatto sì che il costo del lavoro sia ridotto da sé, non adeguando i salari, quindi tutta una serie di problematiche, siamo diventati competitivi nostro malgrado, non adeguando le retribuzioni. Un ingegnere francese, oggi è difficile trovare un ingegnere in Francia, viaggiare deve essere una componente importante della formazione di ciascuno di noi, se si va fuori, si capisce cosa funziona in un certo paese, almeno lo capisci in maniera molto sommaria, ma certe cose le puoi intuire, è difficile trovare un ingegnere francese, un ingegnere di prima occupazione in Francia riceve uno stipendio di circa 2000 euro netti al mese, molte volte l'azienda si occupa anche di trovare un alloggio per sé e per la famiglia, da noi sono condizioni introvabili, improponibili, le prime retribuzioni da noi sono irrilevanti, ecco perché... Tutto questo quindi crea un'immagine, una sensazione non forte. Chi da fuori valuta queste cose, queste cose sono valutabili molto facilmente, dalle banche d'affari che da noi comunque non stanno lì seduti a tavolino, ma vivono nel nostro paese, sanno come funzionano le cose, danno un voto alla qualità dei nostri servizi, a livello delle strade, delle ferrovie, a livello dell'istruzione, comunque buono nel nostro paese, ma tutto questo concorda a determinare un'immagine del nostro paese che giorno per giorno è riprodotta dallo spread. Questo malefico spread che, se leggi questo, se leggi l'altro, sembra sempre uno strumento di... è uno strumento di pressione. È fortissimo. Ma è altrettanto vero che ogni paese è libero di andare, ovviamente in un consorzio, anche a contrattare delle modifiche di rotta, e in questo caso deve essere brava la politica, la politica è la capacità di vendere un nuovo progetto, di vendere proprio un nuovo progetto e ti farlo condividere. Certo che l'Europa così come è messa si presenterà ad aprile, ma il mio problema... Si presenterà ad aprile un po'... La mia ansia da genitore, da persona che lavora in questo paese e da persona che si occupa dei risparmi dei miei clienti, non è quella di oggi, insomma, è quella di oggi, ma è quella di... da oggi ai prossimi mesi c'è un progetto europeo che rimanga così stantio, ovvio che ad aprile rischia una bocciatura dell'elettorato, che può determinarne la fine. Ma lei infatti ha detto, perché l'Europa si sta approcciando, sta andando faticosamente verso una unione di fiscali, in realtà non sta andando da nessuna parte. Non sta andando da nessuna parte, sta marciando sul passo. Sta ferma là dov'è, salvo pure piccoli limiti in piccole questioni e cose. C'è un bello studio, si può vedere perché sulla rete gira, di uno storico israeliano, Noai Hariri, è molto bello, no? Nell'antichità chi governava, chi comandava, aveva la terra. Poi si è passata nel 1900 ai mezzi di produzione, quindi i capitalisti, le grandi concentrazioni industriali. Oggi chi comanda nel mondo è chi detiene i dati. Il big data, insomma. Il modello di produzione è completamente cambiato. Il fatto che le prime dieci grandi aziende di questo mondo non sono banche, non producono macchine, ma producono e vendono dati, ti fa capire come si è cambiato il mondo. E quindi anche il modello industriale europeo è un po' decentrato rispetto a dove va l'economia. Attenzione che l'Asia e l'America stanno andando parzialmente più veloci e da un'altra parte. Da un'altra parte, questo è un'altra parte. Possiamo dire che il tempo a disposizione mi sa che è finito, quindi dobbiamo anche volare verso la chiusura. Da che parte stanno andando? Loro sanno dove stanno andando, perché quando unisci la capacità produttiva all'intelligenza, generi un circuito virtuoso. Dall'altra parte noi perdiamo le intelligenze perché giustamente vanno laddove c'è e stiamo perdendo capacità produttiva. Comunque ci stiamo accanendo, non c'è una concertazione produttiva in Europa. La Germania ha il suo modello di produzione industriale. Noi non ce l'abbiamo, insomma. E noi abbiamo il nostro che comunque va aggiornato. Allora, vedremo insieme gli sviluppi. Grazie Stefano Zara di averci fatto questo quadro. Speriamo che sia naturalmente sempre migliore perché tutti ne traiamo vantaggio. Vi spiegheremo ulteriori capitoli per tenervi aggiornati. Intanto buonanotte e buon proseguimento di serata.